Il mio nome è Davide Guerra e sono direttore di stabilimento dello stabilimento di Biesco-Biala. Il processo di fabbricazione dei motori qua a Biesco ha raggiunto delle performance molto elevate, lo dimostrano anche i risultati ottenuti, per cui solido, robusto, con una base di world class manufaturi estremamente, estremamente forte. Ciò che mi rende particolarmente orgoglioso dello stabilimento di Biesco-Biala è il livello di professionalità e di competenza del mio intero staff. Continuous Moving è uno dei modi che possono essere adottati per fare il montaggio di componenti di un motore. Come lo dice la parola stessa, il montaggio avviene nel muoversi. La mia visione per lo stabilimento di Biesco-Biala è che diventi un punto di riferimento per tutti i plant del gruppo FCA Worldwide. Qui a Biesco lavorano più di mille dipendenti. La produzione giornaliera supera i 2800 motori. Abbiamo prodotto più di 6 milioni di motore. giornalmente vengono prodotte qualcosa come 60 versioni differenti di motore. I nostri motori sono tra i migliori al mondo. Sì, tutto in un unico posto e siamo molto orgogliosi di quello che facciamo.